ben ritrovati ragazzi con una parte di crash con the great gear fantastico è sparita la mela trampolino 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 protezione gustico oddio ok io solite piante una bionda attenzione o pianta carnevola ma vita vita mea no cavolo ce la faccio andare lì attenzione adesso questo qua mi ricordavo non cadere check 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 point scimmia la scimmia di madascar ciao cavolo questa qua che bastarda ho detto spine pungiglioni attento se non ti prudo il culo seconda bionda ciao non mi inganni no le schiume qua oh oh oddio ciao no 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 peta 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 oh attenzione oh terpionda speriamo di non cadere come la prima volta e ciao oh tarda ma dai ma non è possibile togliti te addio abbiamo fatto il livello attenzione dai ma non è possibile 6,7,8 cazze cavolo adesso Builders cosa sarebbe Builders mi sa che quello non lo so ma adesso non lo so prendiamola a casa oddio ecco la daga parla che mi segue attenzione prima palla sono andato affanculo buca 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 attenzione 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 oh dai maledetta aspetta che prendiamo qua tutte le maile pronti via non c'è un checkpoint qua buca buca e via allora sganciamoci le gambe e via buccona bucchettina bucchettona attenzione ma dai ma dai ma porca vacca sono proprio tarato in questi giochi via via bucchetta bucchetta prima ce l'ho fatta via attenzione attenzione facciamo giochi oddio recinto recintino via attenzione c'è checkpoint qua grazie a dio via 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 oddio 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 mi sa ragionando ma vaffanbagno mi ho rallentato per fortuna parto da qua bucchettona attenzione 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 ricordiamoci girare ricordiamoci girare attenzione 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 ha tirato anche lui suo stile di sorriamo bene ragazzi concludo qua l'episodio aspetta abbiamo fatto oggi the great gate che come è livello bonus abbiamo caduto come la prima volta e abbiamo fatto bulless che siamo morti due due volte ci vediamo al prossimo video ciao ciao